Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di Fano TV, occhio ai giornali, come sempre sfoglieremo i quotidiani che troverete in edicola questa mattina, non prima però di aver visto il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi sabato 29 agosto la chiesa osserva il martirio di San Giovanni Battista, il sole è sorto alle 6.27 e tramonterà alle 19.51 e come vedete le giornate incominciano ad accorciarsi, vediamo che cosa ci rimanda come dati il nostro osservatorio meteorologico, dati che potrete trovare anche sul nostro sito per consultarli in qualsiasi momento, potete vedere anche l'evoluzione del tempo durante la giornata, in questo momento la temperatura è di poco superiore ai 20 gradi e un'umidità importante, l'87%. Vediamo la foto che ci rimanda la webcam, come vedete un cielo tutto terzo, molto limpido e le previsioni sono veramente sul bello, per oggi sole pieno su tutte le marche, vedete anche le didascalie molto scarne, sereno poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Anche per domani, domenica lo schema è questo, ci sarà una nuvolosità con più intensa sui rilievi nel basso settore delle marche, precipitazioni però assenti e temperature in ulteriore aumento, quindi questa coda di tempo così bello soleggiato ad alte temperature era prevista, infatti ci siamo accorti i giorni scorsi di questo innalzamento, vediamo le previsioni per lunedì, il cielo è sereno, poco nuvoloso, per attività cumuliforme pomeridiana, quindi ci saranno anche sui rilievi un po' sulla costa una nuvolosità passeggera, precipitazioni assenti però quindi niente pioggia. E quindi la tendenza anche per i giorni successivi, per il corso della settimana a venire, inizio di settimana con tempo però ancora stabile per appunto dei flussi sudocendentali che porteranno a un probabile però peggioramento del tempo nel corso della settimana, quindi però insomma per questo weekend il tempo è bello, è ancora scampoli di mare e di fine estate. Guardiamo le notizie, partiamo dal resto del carlino di Fano, il dragaggio del porto, è un argomento importante, atteso da tanto tempo, da tutti, da operatori, da turisti, da chi usufruisce del porto. Il dragaggio del porto al via, i lavori, i fanghi verranno smaltiti a largo di Ancona, il sindaco Seri annuncia Fano, ha avuto un terzo dei contributi regionali. L'assessore Paolini dice appaltato per 600 mila euro, ne risparmiamo 180 mila, serviranno per altre opere. La politica è presente nella pagina 23 che riguarda sempre Fano, maggioranza va all'attacco con Santorelli che viene tacciato di disfattismo, Santorelli disfattista, fomenta solo fantasie. La replica è, avete oscurato l'estate, la maggioranza si fa aggressiva, in particolare noi città, dopo il pesante attacco del progetto politico, progetto Fano, in merito alla presunta nomina di Rossi alla segreteria. Il suo entourage, l'entourage di Santorelli, vogliono appoggiare la crescita di Fano o vogliono proseguire con il loro massacro mediatico e non solo sulla nostra città. Questo è quanto dice la maggioranza. E poi i giardini radicioni, commissariato sulle tracce di chi ha rubato una statua. Quindi indagini, vedete qui il basamento senza la statua. Ancora dalle pagine del resto del carino, però andiamo all'interno per un fatto brutto, di sciacallaggio, possiamo dire. Una persona si sente male all'interno della propria auto e viene derubato. Il caso accaduto a Giorgio Marinelli di 64 anni, colpito, che vedete qui nella foto, colpito da un'ischemia montanea, il malore al suo risveglio, però è amaro perché oltre al disagio per questo malore, si accorge di essere stato derubato. Perde conoscenza appunto a caso di un malore e gli rubano i soldi dalla tasca dei pantaloni. Un vile appunto viene così tacciato, ne ha approfittato, frugando mentre ero svenuto e aspettavo l'ambulanza. Veramente non c'è mai fine al peggio. Ancora dalle pagine del resto del carino, però andiamo a Pesaro. In primo piano un caso di rumori di musica ad alto livello, un caso che dura dal 2008 e troppo chiasso sotto il Bibetimpera. I proprietari denunciano il comune. Un caso addirittura che c'è riportato qui di un signore che durante appunto le vacanze estive a Pesaro, proprietario sempre di un immobile in questo palazzo, addirittura va a dormire all'Hotel Cruz per evitare il caso. Insomma, una vicenda annosa, dura ormai dal 2008, intentato una causa civile nei confronti del locale. La prossima udienza sarà il 19 novembre del 2015. Siamo musicisti, dice Lucia Ciaci, che è parte in causa, ma il problema è che qui c'è rumore fino a notte fonda. Come lo possiamo risolvere? La risposta del titolare dice che è rispettata la normativa, ma non basta mai. Il resto del Carlino torna sui voucher, parla in questo caso Ricci della CGL e dice appunto stagionali occhio ai voucher, con quelli la paga sì di mezza. Da 7,50 euro spesso si passa a 3 o 4 euro. L'analisi e la tendenza mancano i controlli e osservando il crollo dei contratti a termine non è difficile pensare che vi sia stata un'ulteriore e vasta precarizzazione del lavoro stagionale. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, andiamo nella Limitrofa Senigallia per un'operazione dei carabinieri per droga, doppio arresto, nella casa del fumo stoppato un giro di droga che portava a Montemarciano moltissimi giovani iesini, ci si spostava una sorta di transumanza pro droga. è stroncata questa cosa dai carabinieri e poi un fortunato vincitore, ha vinto 11.000 euro al superenalotto nella tabaccheria Severi, nella tabaccheria di Senigallia e poi disinfestazione perché anche a Senigallia il problema delle zanzare e dei pappataci è scattata la disinfestazione, interventi nelle notti di lunedì e martedì. Da Pesaro per il Corriere Adriatico i musei in rete, questo sicuramente favorisce un turismo culturale che braccia tre città importanti come Pesaro, Fano e Urbino che hanno tanto patrimonio da mostrare. E infatti firmato il protocollo il 9 settembre, avvio a novembre, ecco i musei di Pesaro, Fano e Urbino sono aggregati. Franceschini battezza il biglietto unico e quindi chi vuole vedere tutto il patrimonio culturale delle tre città lo potrà fare con un unico biglietto. Ancora dalla pagina di Pesaro, Polizia Municipale accorpata, il comandante incontra i sindacati, parte così l'unione pesarese tra i quattro comuni critici però su questo aspetto i 5 stelle. Fano per il Corriere Adriatico apre con l'appalto sul dragaggio, vince una ditta bolognese con un ribasso del 30%, l'intervento è entro un mese per 25 mila metri cubici di fanghi. Ancora andiamo in basso e vediamo che anche qui la polemica sul caso Rossi, polemiche astiose sulla scia di Rossi con i fantasmi della giunta a Guzzi. La lista del sindaco accusa Progetto Fano di fomentare le fantasie. Replica invece la replica dell'opposizione dice riveliamo le ingiustizie. Insomma questo weekend si terrà un evento che farà piombare Fano nel Medioevo, il palio delle contrade. Oggi appunto e domani corteo storico e confronto muscolare perché insomma ci saranno gare di destrezza, di tiro con l'arco, la corsa all'anello, insomma sarà un bel momento nella pinettina a ridosso del ponte Metauro. Allora vediamo, qui c'è sciorinato tutto il programma di questa festa e se volete insomma questa full immersion medioevale potete andarci e insomma ci sono tante novità quest'anno rispetto anche all'anno scorso, alla prima edizione. La beffa degli asfalti. Il messaggero di Pesaro apre con questo aspetto. Anche Pesaro soffre di una situazione del manto stradale quanto mai gravosa. Estate senza cantieri. Il piano di interventi annunciato a giugno è saltato. Belloni dice 30 strade interessate, i lavori partiranno a metà settembre. E poi il governatore Ceriscioli durante una visita alla festa dell'unità ad Ascoli Piceno assicura che a settembre ci saranno lo stop delle liste d'attesa. Lo dice anche perché lui ha la delega alla sanità e quindi insomma se l'è voluta tenere questa delega proprio per curare in modo particolare questo aspetto che è stato un aspetto importante anche della sua campagna elettorale, quella sull'abbattimento delle liste d'attesa perché è un segnale veramente importante per l'utente questo di una sanità che funziona e che non è allo sbando. Insomma lui ci tiene molto a questo aspetto. Il meteorologo, ve lo faccio vedere, del messaggero ci conforta anche lui sull'aspetto del ancora sole e quindi insomma avremo un'ulteriore presenza dell'anticiclone africano che permane sul Mediterraneo e che quindi assicurerà ancora bel tempo. Vi faccio vedere una cosa che è riportata anche in altri giornali. Al Santa Marta, andiamo all'alberghiero Santa Marta, doppi turni fino a dicembre. Chi passa dal di lì ha visto anche degli striscioni, dei teli con delle scritte sopra. Questo è perché c'è una protesta in corso che viene anche riportata appunto dal messaggero di peso del Presidente della provincia Tagliolini era sicura, però la soluzione era inevitabile ma comunque temporanea. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero. Il sindaco Seri, la città può contare su un progetto strutturale aggiudicandosi un terzo della somma totale stanziata dalla Regione per il dragaggio dei porti e appunto ribasso del 30% per questa ditta che si è aggiudicata il dragaggio. Erano 16 le aziende in lizza, l'appalto è stato appunto vinto da questa società bolognese. I lavori inizieranno entro il prossimo mese di settembre. E poi Marina di Cesari, così cambierà il diporto e la darsena turistica. E anche qui a pie pagina gli strascichi. Per il caso Davide Rossi nel PD c'è chi sostiene il sindaco e invita a dargli fiducia. Patti Becco tra Noi Città e Progetto Fano. Questa era l'ultima notizia che vi risaltavo del messaggero per la pagina di Fano. Grazie per averci seguito sin qui. Buona mattinata a tutti voi. La rassegna stampa torna lunedì mattina alle 7.30. Buon weekend a tutti. Grazie per aver guardato il video.